Ragazzacci del web un salutone dall'abbaccio e bentornati nella Cryptopolis e per inizi il video come sempre vi ricordo di lasciare un like per sottolineare la serie del canale iscrivetevi e lasciate un commentino ma devo consigliere su quello che abbiamo visto quest'oggi detto ciò ragazzacci bentornati nella Cryptopolis nello scorso episodio abbiamo implementato tutto quanto un sistema di lavorazione delle risorse per ottenere tutti quanti i materiali necessari come uranio, silver, gold, osmium e quant'altro attualmente è tutto quanto spento un po' perché non siamo messi in malaccio siamo intorno ai 57k 50k di roba e devo dire che nonostante tutto è molto produttivo questo coso molto produttivo e eccessivamente dispendioso di corrente per non parlare del fatto che fa la gara a merda perché come faccio partire tutto come potete ben vedere esplode per un attimo il mondo perché escono quantità in vere conde di materiali dagli vari smelter e quindi è un po' un casino fatto sta che ragazzacci attualmente non abbiamo corrente sufficiente per poterlo alimentare i nostri 4 diesel generator non ce la fanno minimamente non riescono a sopperire alle esigenze e in più non riesco a produrre abbastanza diesel per poterlo alimentare tutti e quattro di fatti o meglio non è che non riesco a produrre abbastanza diesel diesel le produco abbastanza non riesco a produrre abbastanza patate ed emp detto ciò arrivati a questo punto del pack le quest ci suggeriscono di fare la deep mob learning la deep mob learning sarebbe interessante da fare perché avremmo la possibilità di fare le blaze rod e le ender perle in maniera più semplice però questi sono macchinari che funzionano a corrente e se io già non ho corrente per mandare sta roba figuriamoci tutto il resto quindi ho dato un'occhiata a come procede il pack in questa parte delle quest diciamo che il creatore del pack ci dà due opzioni o fare la natura saura che è una mod molto carina molto interessante mod magica che potrebbe avere delle cosettine interessanti a nostra disposizione e che ci consentirebbe alla fine della fiera di creare e quindi ci si sbloccherebbe l'applied il problema di questo procedimento per fare queste cose è che è difficilmente automatizzabile se non impossibile e io di queste me ne serve un bel po' per fare l'applied l'altra opzione è fare la mechanism poiché grazie al chemical crystallizer io ho la facoltà con l'ossigeno facilmente ottenibile di ottenere il cereto squartz o con il etilene anch'esso facilmente ottenibile il flux crystal ora considerando che questo procedimento io lo posso automatizzare e sarebbe più performante cercare di ottenere questi due materiali con la mechanism non con la natura saura quindi caro il mio creatore del pack guardami bene nella palle dell'occhio la natura saura ce l'ha infilata perché ti garbava ecco non perché era utile allo scopo comunque detto ciò ragazzacci io in questo episodio voglio iniziare la mechanism non tanto per andare a fare i flux crystal ma perché facendo l'etilene che mi serve per creare i flux crystal io ho una fonte di carburante davvero davvero interessante poiché la mechanism ha un un generatore di corrente ovvero il gas burning generator che funziona discretamente bene funziona discretamente bene e visto che la poa un po' l'abbiamo già vista un po' mi stucca un attimino farla per il semplice fatto che l'uranimite io la ottengo nell'energized con l'uranio e mi richiede 30.000 RF per farne uno capirete bene che è un po' meh ok detto ciò ragazzacci direi di iniziare dalla cosa più semplice ovvero i i steel casing gli steel casing che ce l'ho qui un campioncino si fanno qua dentro con dei semplici blocchi di steel e dei semplici blocchi di alluminio ed anche 11 ci vuole una delete di gear ma non è un problema vorrei un altro copi paste posso avere un altro copi paste grazie questo fortesissimo e ci avevo anche un un charger ho fatto questo questa qui si tu mettiti qua e ti diamo corrente e mi carichi sto cosa grazie si metteci anche l'augmentation ce l'abbiamo why not perfetto è un po' più veloce nel falleos quindi abbiamo detto steel casing ne abbiamo un k ne prendiamo due tre stack e alluminio ne abbiamo quattro k ne prendiamo qualche stacchino pure di questo se non ho visto male la faccenda dovrebbe essere una roba di questo genere ovvero un cubo 5x5 con le facce in alluminio insomma una roba così più o meno abbastanza semplice anche se effettivamente un po' dispendioso di risorse ci copiamo la struttura perfetto poi sapremo come incollarla di nuovo e ora ho bisogno di queste me ne fai 1 2 3 4 why not diamo un po' peruffetto e ce ne facciamo un pochettino di questi in modo e maniera da averci un po' di scorta tanto qualche macchinario mi sa chi li dovrò fare ok direi che un 44 steel casing dovrebbero essere più che sufficienti direi di fare le cose da questo lato per il semplice fatto che molto probabilmente riesco a tirarmi su la no undo adesso è pericoloso ok ributta dentro e te vai dentro stavo dicendo dovrei riuscire a tirarmi su la simple quindi qui abbiamo la corrente e qui abbiamo la simple non è che sia proprio entusiastissimo della performance però ci potremmo accontentare partiamo ovviamente dalle basi abbiamo bisogno del nostro metallurgic infuser metallurgic infuser si fa abbastanza semplice iron steel casing e via discorrendo ne farei giusto un paio ora so che non sarà proprio bellissima la faccenda però direi che l'opzione migliore e più performante è quella di far passare dei cavetti sotto e ci abbiamo lui per ora ne metterei un altro qui giusto per avere le cose distanti poiché ho bisogno degli export questi qua ok ok allora cara la mia simple io ti devo mettere questo qua e ti metterei questo sopra ok in modo e maniera che io vado a dire al nostro amico caro mio da dietro prendimi la redstone ok da sopra c'hai l'input e a a sinistra c'hai l'output auto react on e siamo a posto quindi se tanto mi da tanto a te ti serve di che qui ti arrivi questo 1 grazie ok e ti sta arrivando molto lentamente ma ti sta arrivando vabbè non è quello il problema e da sopra ti deve arrivare oh yes è scomparso non sappiamo come mai perché è un glitch grafico ma probabilmente però lui sta lavorando e ci sta facendo questi sei bellissimissimo dalla parte di qua più o meno stesso discorso questo qui questo qua e questo di sopra quindi qua qua da dietro prendi il giallo da sopra l'input e qui l'output e ti metto questo qui e questo di qua ok bene tu come prima più di prima questo qui e questo sull'osmium ole state lavorando tutti e due state facendo cose la cosa mi soddisfa l'unica roba downgrade potrebbe essere performante il downgrade però a sto punto è meglio avere questi ok questo qui questo qua e si loccano domanda il controllo è arrivato fin qua su oh yes top della vita e con questo ragazza ci direi che siamo un pezzettino avanti perché con questo ovviamente noi possiamo fare tutte quante le nostre cose per esempio ci potremmo fare sicuramente gli speed poiché mi hanno già messo a parte delle polveri che intanto questi li possiamo mettere e lui già lavora un po' più adeguatamente e poi sicuramente degli energy poiché non vogliamo che consumi di là di dio già 350 ref a tic sono quantità importanti 200 questo perché ce n'è un paio in più quindi diamoli anche questi due e diciamo una base ce l'abbiamo potrei fare il sistemino tutto quanto però attualmente senza apied con la semplice simple è un po' complicato quindi preferisco per ora farmi questi due poi stiamo a vedere ora il concetto qual è io per poter fare l'etilene ho bisogno di una pressurizer chamber caricata ad acqua e idrogeno ok in più del biofuel il biofuel è molto semplice dentro un crusher qualsiasi cosa di vegetale nello specifico patate e guarda caso noi di patate ce ne abbiamo in abbondanza quindi io partirei da quello e vediamo un po' come si evolve per la faccenda il crusher eccolo qui vuole due secchielli di lava non che sia un problema la lava in un pack dove la lava è virtualmente infinita ah giusto per la cronaca ho fatto un assembler caricato a lava per fare il genetic pass della Powa penso di avere i genetic pass per 6 mesi però fondamentalmente quello che come detto attualmente non è che mi interessi più che tanto fare la Powa poiché preferisco quest'altro metodo di generazione quindi abbiamo detto credo che mi metterò qua a fare la cosa perché ho le patate qua sopra crusher intanto prendiamo una mano ok e vediamo come si comporta si qui può andare bene o io non lo so eh aspetta un attimo poiché mi servono delle pippe queste concetto qual è? questi cacciano fuori in teoria dovrebbero buttar fuori e mettere nell'inventario più vicino attualmente l'inventario più vicino è quello quindi lui prediligerà quello come inventario il che mi può andare bene si cavettini e ci ritiriamo su da questa parte qua considerate anche il fatto che io potrei eventualmente adesso visto che ho gli alloy fare questa cosa ovvero potenziare i cavi tutti quelli nella linea ovviamente qui avevo staccato perfetto potenziate tutti quanti e così eccellente potenziati pure tu e siamo a posto ora questi non so quanto portano in più però sicuramente più di prima stavamo dicendo crasherone l'altro amico crasherone è già partito male lui prende da qui sei lenta merda consumi 20 rf a tic che potrebbe anche andare bene e ne fai 5 diamoli i soliti cosetti per potenziarlo ovvero degli speed e degli energy ok e ok ora come velocità direi che ci siamo consuma 200 rf a tic ci possiamo stare abbiamo visto che ora ci serve la pressura laser chamber per su laser chamber che sembrerebbe facile da fare ok ci serve però un rich chamber che era una quest però vabbè non è che ci interessi più che tanto due basic tank no una e due questo qui che è molto semplice da fare ed infine abbiamo tutto abbiamo tutto te ti potrei valutare di mettere direttamente accanto why not ti chiocchiamo qua allora tu devi ovviamente buttare fuori da lì mi raccomando sempre item li prendi da qua ok bene tu butti fuori da qua e butti in automatico e loro sono entrati dobbiamo darti acqua e idrogeno ricordiamoci che ci farà anche il substrato ok vabbè l'acqua non è un problema direi che potremmo poter fare questo sì se avessimo dell'acqua eccolo qua e ovviamente i suoi upgrade ora sicuramente quello di iron già che possiamo quello di gold volendo fare gli sboronici anche quello di diamante quella di nederite vorremmo sai anche se non credo che consumerà poi così tanta acqua però boh andiamo a vedere allora lo mettiamo qua gli diamo questo questo e questo poi la domanda sorge spontanea posso fare questi questi sì credo e direi di farli subito potenziati potenziati meccanica meccanica why not c'ho uno sbrago di secchielli d'acqua direi di lavorare con questi allora se io faccio così ovviamente però mi serve ora che ci penso anche la cosa lui configurator perfetto questo e questo a te ti butto così l'acqua è già entrata a posto dobbiamo però dargli l'idrogeno l'idrogeno è dentro un elettrolitic separator fattibile vediamo un po' se riusciamo a fare il nostro elettrolitic separator dovremmo ci manca ah vabbè dell'iron dust l'iron dust dimmi che la posso fare nel crash con un lingotto con un lingotto dovrei avere prima poi si non ti inculare tutto quanto tutte le volte iron sei tremenda allora caro amico crusher tanto per cominciare fammi fammi lo piacere allora questi smarmella quindi stavamo dicendo elettrolitic separator questo questo ce l'abbiamo questo ecco perfetto tu ovviamente qui con questo e questo sei già partito il che mi potrebbe andare bene configurazione dovrebbero essere dei gas e io ho bisogno dell'idrogeno che è sul blu mi vado a destra ok e tu devi avere per i gas ce l'ha l'input di qua si qual è il tuo problema idrogeno ok che gli avevo dato l'item non lo so perché va bene abbiamo dell'idrogeno stiamo facendo il substrato e abbiamo dell'etilene il substrato mi potrebbe fare comodo why not prendiamo un drawer se ce ce l'ho si questo con questi qui magari no li buttiamo dentro e tu ti prendo con me e ti butto qua sopra quindi tu con l'item hai l'output sopra e questo qua perfetto e direi che siamo un pezzo avanti ragazzacci non siamo messi male è un pochettino lenta merda ma ne fa una quantità spuzzolosa vero però non è potenziato cosa che provvederemo immediatamente ovvero speed fammene va bene energy fammene perché giustamente me ne devi fare se no che caspita l'ho fatti a fare la farm energy da una parte e speed dall'altra allora tu tu e tu così così e così dovrei averli messi energy speed ok energy speed ok e qui arriva tra virgolette l'intoppo che ci facciamo con l'ossigeno e qui l'intoppino diciamo è corretto diciamo però vi ricordo che con l'ossigeno io ci faccio loro e quindi il chemical crystallized è un finger in the ass siamo d'accordo però se riuscissimo a fare quattro pezzi di refiner obsidian e due pezzetti di ultimate control circuit saremmo un pezzo avanti nel frattempo io direi di dampare l'eccesso lui è strapieno lui sta lavorando come missili e anzi sembrerebbe che con uno solo io riesca ad alimentarne più di uno di questi qua attenzione attenzione diamo un'occhiata al gas burning il gas burning generator eccolo qua che sembra relativamente molto semplice da fare io potrei tranquillamente tutto per farmi un'idea metterlo qua e ti dico l'etilene che è un liquido un gas considerate che lui si è già sturato 80k di batteria interna così giusto per dare un occhio direi di fare una cosa a questa maniera si salve possiamo abbiamo facoltà di fare questo lui è pieno stipato sta funzionando tutto quanto e se io ora riattaccassi questi ho sentito partire tutto praticamente lasciamoli un attimino lavorare lui ha cose che consumano indubbiamente lui è fermo non non ha un consumo a quanto pare però se io tolgo questo e tolgo questo è tutto sulle tue spalle ciccio solo con questo cosetto spuzzoloso io riesco ad alimentare tutto quanto bene e considerate che non è al massimo delle sue potenzialità da test che ho fatto questo qui più è pieno di gas e più produce al massimo fa 70k io solo con questi quattro macchinari spuzzolosi ho risolto il problema energetico bella l'immersive bella ma questo è un pochettino meglio vado un po' come vi pare ne sta producendo più di quanto ne consuma quindi potenzialmente noi potremmo sfruttare questo etilene per un altro scopo ovvero per fare loro comunque visto che ce l'abbiamo questi qui li possiamo tranquillamente riattaccare questi sono ancora staccati va bene at this point of situation potrei valutare di togliere di mezzo sti due diesel generator che tanto sono pure fermi e vuoti c'è questo qui che ha un po' di diesel si mi ingombrano spazio e basta questo non è bellissimo però lo lasciamo detto ciò ragazzacci lasciamo un attimino stare lui perché lui è bello fiero si direi che fondamentalmente problemi non ce ne sono per ora loro stanno lavorando e nel momento in cui arriverà a mancare corrente al nostro barn generator che ci verrà in aiuto ora come detto io voglio arrivare ad ottenere il chemical crystallized abbiamo bisogno però di fare alcuni passaggi ovvero abbiamo bisogno di un po' di questi che si fanno o la diamond dust o il diamante arricciato diamante arricciato forse meglio quindi eeeh witch and chamber mi serve questa mi serve questo oh yes e tu ragazza mia mi devi fare la roba arricciata un altro exporterino con i diamanti però diamanti che non abbiamo tantissimi parliamoci chiaro però per ora mi contento che vuoi fare allora cara amica del sole te mi devi prendere le cose da dietro perfetto me le devi buttare dentro un altro metallurgico infuser eccolo qua e magari con un po' più di di brio perché sinceramente non è che ti posso vedere così ok ora mi piace quindi metallurgic che mi va a prendere il giallo da qui e tu mi devi buttare fuori da qua ok e a sto punto ho bisogno che il nostro caro amico del sole sia alimentato con gli alloy quindi l'input da dietro con questi andando perfetto eccellente drawerino con lui ok questo qui perfetto tu ti metto a sto giro no lo metterei sempre qua ok e l'output ce la costi no no ho il bagliato l'input dietro e qui il giallo si 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 linko e loco dai che ridendo e scherzando però sta uscendo la farmetta qua da ultima importanza che bisogna forse questi però questi mi serve l'enriched obsidian che è refined obsidian che è ossidiana e diamond dust però vuoi proprio la polvere la polvere la faccio qua il problema è l'ossidiana come la ottengo a questo si ok ma non so se è un metodo valido blast chiller blast chiller potrebbe essere interessante allora signora blast chiller lei si oh oh pocket ice fermi eh si ghiaccio due avevo detto io che quella fornacina furbo della cosa sarebbe tornata utile blue sky la signora fornacina furba io a lei la metto qua un secondo no poi mi dia un due bucket d'acqua qua che posso prendere da qua un e due perfetto ora si a questo lo metto qua e ti do una qualsiasi cosa da cuocere in teoria giusto no posso cuocere del pane va bene farò del pane che l'avevo provato esatto abbiamo il ghiaccio uno e abbiamo il ghiaccio due ora se io questi due pezzettini qui li vado a buttare qui dentro pacchetti dice così di botto senza senso vabbè sento il nostro amico funzionare proprio bravo sei proprio bravo proprio bravo vedi quando loro non riescono a sopperire le esigenze entra in gioco lui top della vita per niente stanno lavorando solamente loro due più questo 6 7000 8000 all'occorrenza quello che che va bene che sia quindi stavamo dicendo blast chiller ho facoltà di farlo sì se avessi due inbar gear perfetto blast chiller eccolo qui attenti devo mettere dove c'ho la lava oppure dove mi posso portare la lava sì faremo una cosa brutta nell'esame vabbè senti per ora ti metto qua corrente ce l'hai mico mio perché non sì pronto caro amico ok lo dovevo ripiazzare va bene abbiamo la lava abbiamo il blast chiller lui sta facendo ossidiana lento a merda perché sei lento a merda caro amico del sole però sta funzionando c'ho della roba per dargli un po' di velocità sto coso venenoso oppure no va bene prendiamo uno di questi e questi un po' meglio sei un po' un po' più a cristiano ok perfetto droverino mi butti fuori in automatico grazie tutti locco e poi un link così li facciamo leggere alla simple lui e stiamo un pezzo avanti tanto ce l'ho qua di dietro volendo fare le cose un po' così come viene viene giusto per diciamo avere un pochettino di materiali per partire poi le ottimizzazioni le farò in un secondo dopo direi di prendere uno stacchino di questi e buttarle al macero si però sei un magnete di merda mi sto in antipatio ora qui sento tutto perfetto perché giustamente questa non sa dove mandarla questa neanche e la cosa bella è che te ne ridano un bel po' te ne smarmella uno stacchino allora sarà il minimo la quinta volta che lo ributto dentro e da uno stacchino siamo già quasi a tre e ho ancora dell'ossidiana quindi brava crate ti stimo come sempre quindi abbiamo detto tu mi devi fare questo la refined obsidian mi va qua dentro ok insieme a questi per uffetto e pure a te ti do tutte le cosettine del caso sarebbe meglio farli arriciati se and accordo e probabilmente le farei anche si mi conviene mi conviene farli arriciati ma per il semplice fatto che è meglio non di questi ah ce n'avevo già anche un bel po' vabbè oh si andiamo avanti così tu ti vieni qua tu vai qui tu mi fai no questi ma questi ok quindi tu mi dovresti fare quell'altro giusto si ho però bisogno anche della lo smium compresso questo in modo da ottenere un po' di questi e un po' di questi fare un pom pom tutt'uno questi lo rimettiamo a lavorare facciamoci anche lo smium compresso eccolo easy quasi vuoi questi uno e due ok e ci abbiamo pure illo illo a casissimo così vuoi queste e lo smium fai un casino alla madonna però vabbè quanto neanche tanto dai abbiamo refenet obsidian da una parte questi dall'altra top della vita lui sta andando sta facendo eccellente allora mi servono uno di questi tanto un po' ci vogliono poi questi qui io non ho stack intero no però magari un pochettino ce ne facciamo un mezzo stack mi sembra una quantità accettabile e poi almeno una e due di queste crystal laser chemical crystal laser eccolo va per uffetto ora se non ho fatto male i calcoli allora tu stai andando l'idrogeno è pieno perché è pieno l'ossigeno va bene l'ossigeno che è questo meno butti di qua lo stai già prendendo così senza colpo ferire ma sei meraviglioso e ci abbiamo un certo squas crystal tu si sta andando quindi ragazzi facci con sto cosetto stupido che è un cosetto stupido veramente che è un consumo a nemmen tanto 1.6 si 10.000 finché ce ne ha va bene io adesso sono in grado di fare tante belle cosine allora te ti posso far uscire in automatico le robe la risposta è sì ossigeno non ce n'ha tantissimo ma perché questo qui è pieno stipato quindi si fa un dumping access così lui continua a produrre l'ossigeno e lui continua a produrre questi top della vita detto ciò ragazzacci noi praticamente adesso cosa abbiamo fatto numero 1 abbiamo risolto il problema energetico perché come detto questo fa dai 70 all'80k solo lui da solo e sta farmina stupida perché è una farmina stupida parliamoci chiaro che è impotenziabile parliamoci chiaro non è che si può affermare può produrre molto di più di quello che sta producendo adesso io sto ottenendo energia dalla parte di qua qui abbiamo fatto un pochettino di cosette cosette che attualmente mi stucca un attimino andare a sistemare però fondamentalmente nel senso dovrei fare delle linee dedicate un po' come nelle precedenti serie ma non c'ho voglia non c'ho tempo quindi per ora mi contento così insomma a fatto sta che attualmente stiamo a pace con il diesel a pace con le patate a pace con gli amp anzi stanno aumentando e stiamo producendo il certo squartz ora questo posso fare un altro di estiosi mi manca questi uno e due sì e ora se a te ti metto qua e prendo depressurized poiché in teoria l'etilene dovrebbe essere sì un gas ora tu mi dovresti rifornire prima questo e poi se io a te ti metto qui però fammi ti mettere un cavetto sotto perché sennò è un casino per la legge dei più lontani dovresti rifornire come secondo lui e te mi stai facendo zan 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 il tuo exister non è che mi piaci tanto così eh sì mi piace un po' di più vedo parti dei 30.000 eh quanto stai consumando tu 160 ah perché ovviamente sono ripartito ripartito pure lui 20 consumi chi è il sudice maledetto che consuma come lì disperato non lo so non ci do di saperlo questo non si capisce bene quanto fa quanto non fa però sta andando e finché è pieno noi siamo contenti e felici detto ciò ragazzacci in un unico episodio direi che abbiamo fatto un lavorone abbiamo startato la meccanism risolto il problema energetico e ottenuto i materiali base per poter fare l'app da energistic per quanto riguarda le quest la domanda è la natura saura la vogliamo fare anche perché io non ho richieste di natura saurea per ottenere la creativa questa quindi non lo so vediamo detto ciò ragazzacci ovviamente come sempre se vi è piaciuto mi trovate lasciate un like e un commento condividete su di cui si sono di cui si sono di cui di lato se lo vedete in descrizione se non lo fate iscrivete al canale da un abbraccio che finalmente sta un po' a pace con la corrente un saluto e un abbraccio alla prossima gente ciao ciao